Musica La galleria di chimica, dove ci sono le attività di biotecnologie, chimica, della biblioteca che parla dell'origine del papiro fino all'ebook, percorsi di scienze naturali e percorsi di chimica legati alla muti, cose più matte con il latte. Praticamente si fa da giochi di educazione ambientale, tipo l'ambientota in cui si insegna ai bambini i corretti comportamenti in casa, per risparmiare e salvaguardare l'ambiente, mentre giocano ai vulcani, insegna ai bambini a creare un vulcano con la spiegazione scientifica di come funziona, e se ne fa fare anche l'eruzione del vulcano, ho fatto tutto con materiali di riciclo, giornali, bottiglie, carta che si vuole avere.